Buonasera, grazie per essere ancora con noi in Onde, 37esimo Torino Film Festival, accogliamo Cosimo Terlizzi, regista di Dentro di C'è la Terra. Allora Cosimo, prima proiezione pubblica. Ok, preferisci dire adesso le parole di introduzione? Comunque alla fine abbiamo il tempo del Q&A. Ok, facciamo parlare il cuore. Vuoi dire qualcosa? Beh, intanto ovviamente grazie di essere qua e vi auguro un buon viaggio in questo, che è un diario audiovisivo, una raccolta di sei anni di tracce di vita quotidiana e l'intento poi lo capirete forse alla fine, dopo 83 minuti. No, ottima, ottima. Buona visione. Buona visione. A dopo. Grazie. Grazie. Grazie.